Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Siamo arrivati finalmente, alla sesta parte della playlist destinata ai Guinness World Record. Sapevate che tra gli animali che hanno stabilito record incredibili, c'è un carinissimo coniglietto che ha dimostrato un talento straordinario, nel giocare a basket? Oppure, sapevate che esiste un Chihuahua piccolo quanto una banconota da 10 dollari. Se per caso vi foste persi i video precedenti, in cui trattiamo questi, e tantissimi altri record, qui sopra, troverete tutta la playlist con tantissimi record da scoprire. Se vi piacciono questo genere di contenuti, ricorda di iscriverti al canale, mettere like al video o lasciare un commento. Questo aiuterà il canale a crescere e a portare sempre nuovi contenuti. Cominciamo questo video con Keon, il cane con la coda più lunga del pianeta. Nel mondo animale, ci sono numerosi record e primati che spaziano dal gatto più longevo, al cane più alto mai registrato. Uno degli ultimi animali ad entrare nel Guinness dei primati, è Keon, un magnifico levriero irlandese con un tratto fisico davvero straordinario, una coda incredibilmente lunga di 76 centimetri. Keon, vive a Westerlo, in Belgio, e ha ottenuto questo record impressionante nel 2015. Curiosamente, questa particolare caratteristica fisica è emersa solo con la crescita del cane. Come spiega il suo proprietario, quando Keon era ancora un cucciolo, aveva l'aspetto di qualsiasi altro levriero irlandese, senza alcun indizio della sorprendente lunghezza della coda che avrebbe sviluppato. L'uomo con i piedi più grandi del mondo Il 6 ottobre 2014, Jason Orlando Rodriguez, ha ufficialmente ottenuto il record mondiale per la lunghezza straordinaria dei suoi piedi. Misurano la bellezza di 40,1 centimetri. Secondo le misure standard italiane, dovrebbe indossare scarpe di misura 62, superando il precedente record detenuto da Sultan Kozen, l'uomo più alto del mondo con i suoi 2,51 metri e piedi di misura 57. Questi numeri da record derivano da problemi di gigantismo, caratterizzati da un'eccessiva secrezione di ormone della crescita che affligge Jason fin dall'infanzia. Per trovare calzature adatte, Rodriguez si rivolge ora a un calzolaio tedesco specializzato in misure extra large. In passato, si è arrangiato costruendosi da solo le scarpe, con risultati poco soddisfacenti. Auto sollevata con la testa Il settantenne John Evans, oggi 74enne, ha stabilito ben 98 record mondiali grazie alle sue straordinarie imprese di equilibrio e forza. La sua avventura iniziò a 18 anni, quando lavorando nei cantieri, scoprì di poter portare 24 mattoni sulla testa e salire le scale senza difficoltà. Il 24 maggio 1999, ai London Studios di Londra, Evans compì un'impresa straordinaria, mantenne in equilibrio sulla testa per 33 secondi, una mini sventrata dal peso di 159,6 kg. Questo episodio si aggiunse ai 98 record mondiali da lui conquistati nel corso della sua carriera. La sua abilità nel bilanciare oggetti sulla testa si è evoluta nel tempo, portandolo a compiere imprese sempre più incredibili, dal tenere in equilibrio automobili, fino a piccoli motoscafi. L'animale, con le corna più lunghe del mondo Le corna dei bufali, sono una caratteristica distintiva di questi animali, e possono variare significativamente tra le diverse specie e sottospecie. In generale, le dimensioni delle corna dei bufali possono oscillare tra i 60 centimetri e i 2 metri, con alcune rare eccezioni. Nel 2014, un bufalo americano ha catturato l'attenzione mondiale stabilendo un record nel Guinness dei primati, per le corna più grandi di qualsiasi animale in vita. La lunghezza delle sue corna ha superato ogni aspettativa, raggiungendo poco più di 3 metri. Le corna, svolgono un ruolo importante nella vita di questi bufali, sia come strumento di difesa, che come mezzo per affermare la loro posizione nella gerarchia sociale all'interno del branco. Questo bufalo ha senza dubbio attirato l'interesse degli studiosi della fauna selvatica, e degli appassionati di animali di tutto il mondo, dimostrando la straordinaria diversità e bellezza del mondo animale. Record di fette di pizza mangiate La pizza, è indubbiamente uno dei cibi più amati al mondo. Esistono addirittura gare, dove le persone si sfidano per mangiare il maggior numero di fette nel minor tempo possibile. Nella storia di queste competizioni, alcuni professionisti hanno segnato record sorprendenti. Tra di loro, spiccano due nomi. Joe Chestnut e Pat Bertoletti. Nel 2008, Joe Chestnut ha stabilito un record mangiando 45 fette di pizza in soli 10 minuti. Tuttavia, poche settimane dopo, Pat Bertoletti ha sorpassato questo primato, riuscendo a mangiare ben 47 fette di pizza nel medesimo intervallo di tempo. Pelle più elastica al mondo Gary Turner, conosciuto da tutti come Gary Stretch, è un cittadino britannico, noto per la sua incredibile capacità di estendere la pelle del suo corpo, senza subire danni o sentire dolore. È diventato famoso per aver acquisito nel 1999, il Guinness World Record per la pelle più elastica al mondo. La sua incredibile dote, gli permette di allungare la pelle di guance, collo e altre parti del corpo in modo impressionante. Il suo Guinness World Record, è stato riconosciuto per la maggior distanza di pelle tesa su un corpo umano, e la sua abilità più notevole, riguarda l'addome, che può essere esteso in maniera impressionante, raggiungendo un'estensione di circa 15,8 cm a partire dal suo stomaco. Dimensioni simili a quelle di una gravidanza avanzata. Questa capacità è dovuta a una condizione medica chiamata sindrome di Ehlers-Danlos, una rara malattia genetica del tessuto connettivo che rende la sua pelle più elastica rispetto a quella delle persone comuni. È così elastico che può addirittura indossare la sua pelle come se fosse una sciarpa. Gary ha mostrato la sua incredibile abilità in diversi spettacoli televisivi e eventi dal vivo, affascinando il pubblico, e attirando l'attenzione dei media, facendolo diventare famoso in tutto il mondo. È importante notare, che Gary ha acquisito il suo Guinness grazie alle caratteristiche naturali del suo corpo, e non attraverso interventi chirurgici o trattamenti artificiali. E con questo si conclude il nostro viaggio alla scoperta dei Guinness più strani e bizzarri al mondo. Se l'argomento è stato di vostro gradimento e interesse, e se vi è piaciuto il video, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere like al video o lasciare un commento. Questo aiuterà il canale a crescere e a portare sempre nuovi contenuti. Grazie. Grazie.